...dicare il corso di te la cina, il signor Dario Spassi... ...adassigati a quelli ieri, spartendoli un po' a casa, come se volete star male... ...il signor Gianlunda, come si chiama... ...la vera sicurezza di questa terra... ...l'uomo di Pagliari... ...l'uomo di Pagliari... ...ma un altro... ...l'uomo anche dire ieri... ...l'uomo di Pagliari... ...all'uomo di Pagliari... ...invece da una terra... ...el Vittorio, sono state riuscite... ...ol'uomo di Pagliari... ...dicare il venerdì uno... ...l'uomo di Pagliari... ...e' parto di Pagliari... ...l'uomo di Pagliari... Spero di come comunque provare! Signora Marco, sono andorili! Come presentate tutti gli altri sarebbe un po' impossibile! Però sta! Sta suonando le mie riscriv kriegen! Dove è? Non so! Se noi hai passato da Tuffo Se lo faccio, lo vediamo nei due, anche due Vediamo i suoi due Vieni pure tutti! Vieni grandi! l'ho segnato tu fai L'ultima e notte l'ultimo, il presidente Daniele Silvestri. Grazie a tutti. Edoardo Leo che questa serata è rilassato per la parte della sala. E' un adesso avvocato, che non so se c'è il suo santo che è fatto con noi. Eccolo! E' il presidente di questa piccola house, che è un po' generale. E' un po' generale. E' un po' generale.